Sono molti gli attori e i registri che devono imparte la loro popolarità a Carosello. In vent'anni Carosello è stato un po' lo specchio del paese. Erano piccole storie slegate dalla pubblicità, piccole storie d'arte con appunto registi come Olmi, come Pasolini, come Fellini e attori, attori come Raimondo Vianello, anche lo stesso Totò, fino addirittura agli americani Jerry Lewis e Frank Sinatra. Carosello è stato appunto un po' lo specchio della società. Con Carosello abbiamo visto le massaie che si affrancavano dai duri lavori di casa con i primi elettrodomestici. Abbiamo visto Calimero e il concetto di igiene che per la prima volta arrivava anche nelle campagne. E appunto Calindri, col suo famoso spot, il tavolino in mezzo al traffico cittadino, che rappresentava un po' da un lato una macchina per tutti, il ceto medio che poteva acquistare l'auto, ma anche per la prima volta quello che poi sarebbe diventato un tema dominante nella nostra società, cioè appunto lo stress della vita moderna. Grazie a tutti.